Come sapete questa scuola ha avuto la cortesia di ospitare un ragazzo giapponese affinché gli venisse insegnato il judo. La TBS, che è la tv giapponese, ha deciso di ricambiare la cortesia organizzando per lui questo spettacolo di judo, quindi chiamando questo ospite internazionale master. Quindi non ci resta che iniziare e pertanto iniziamo con un calorosissimo applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.